40 anni fa per raccontare la storia della città di Como. Il Paglio del Baraderlo racconta le vicende di Federico Primo di Svevi, ha detto Federico Barbarossa. Fu infatti lui l'indispensabile alleato utile per la rinascita della città di Como dopo la cruenta distruzione operata dai milanesi al termine della sanquinosa guerra decennale e soprattutto dopo 30 anni di umiliante servaggio e continue violente angherie che parevano non aver mai fine da parte della vicina Milano. Se oggi l'antagonismo tra Come Milano è ormai superato e lascia spazio alla sinergia tra le due città all'inizio del XII secolo non era così. Il libero comune di Como rappresentava una solida realtà politica ed economica in cui territorio corrispondente a quella della Diocesi si estendeva a nord fino alla Valtellina e al Canton Ticino mentre trovava il suo limite a est verso la potenza milanese. E vedete arrivare i primi gonfaloni della sfilata storica del Paglio del Baradello dopo due anni di pausa si torna a questo meraviglioso appuntamento nella città di Como un appuntamento che ricorre sempre in occasione della fine del mese di agosto e l'inizio del mese di settembre e racgruppa i bordi principali della città di Como. Eccoci quindi ad aprire la sfilata del Paglio del Baradello le crocerossine volontarie della Croce Rossa seguite dai carabinieri in alta uniforme dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato dalla Polizia Penitenziaria e dai Vigili del Fuoco il gonfalone della città di Como a seguire quello della regione Lombardia e ancora il Comune di Como la provincia le guardie della provincia di Como le guardie verdi che salutiamo gli spandiratori e i musici di Besnate che sono sempre presenti alla città di Como non fanno mai mancare il loro apporto in occasione della sfilata del Paglio del Baradello eccoli gli sbandiratori che fanno sempre molto molto spettacolo e sono perfetti nelle loro esibizioni vi invitiamo tutti a seguire la sfilata anche nel prosieguo del loro cammino che si concluderà nella zona del Tempio Volteano Giardini a Lago in prossimità del Monumento ai Caduti tra poco vedremo sfilare anche i gonfaloni delle varie associazioni e dei pali ma soffermiamo la nostra attenzione sugli spandiratori che svolgono questa attività 12 mesi all'anno e si apprestano sempre a essere presenti al Paglio e in occasione in particolare della sfilata alla quale stiamo assistendo ecco arrivare i gonfaloni a città di Como il gonfalone dell'associazione del Paglio del Baradello con Comun ovviamente riportato al centro i costumi sono fedelmente ricordati nel corso di questa tradizione con anche le varie autorità cittadine che vediamo sfilare c'è la rappresentanza dell'amministrazione comunale la vice sindaco Nicoletta Roperto e anche l'assessore Enrico Colombo e il Paglio, il drappo del Paglio del Baradello e sapete che al termine della sfilata nella zona di Giardini Lago poi verrà sancito il Paglio vincitore di quest'anno del Paglio appunto del Baradello sfilano ora i gonfaloni e le rappresentanze dei rioni della Paglio Cernobbio in primis vincitore della scorsa edizione con i consueti costumi tradizionali bellissimi ci inchiniamo e direi di fare un applauso a queste persone che si dedicano 12 mesi all'anno 365 giorni con il loro impegno per essere sempre presenti in questo Paglio che lo ricordiamo purtroppo è mancato per due edizioni ma quest'anno torna veramente alla grande guardate i costumi ripresi nella loro bellezza storica tutti manuali i primi frutti della terra che vengono portati dalla zona alta nel quartiere di Cannago a scendere tra poco arriveranno anche gli altri a seguire il borgo di Cernobbio arriveranno anche gli altri gonfaloni nell'ordine li possiamo vedere ci sono i gonfaloni a parte salutiamo anche le enti religiosi che non mancano mai il balivo che rappresenta il potere del sovrano svolgendo funzioni di luogotenente con compiti di reggente nei centri esterni della città dicevamo Camerlata Quarcino Cernobbio Tavernola il quartiere della Cortesella Sant'Agostino Cannago Volta eccolo il balivo a cavallo lo salutiamo guardate le armi le armi dell'epoca apre lui la sfilata dei cavalli Cernobbio Camerlata questi sono signori sono i capitani i capitani delle formazioni delle squadre che hanno contribuito al palio di quest'anno Cortesella che gioca in casa proprio questa è la sua zona salutiamo anche Quarcino salutiamo Sant'Agostino Camnago Volta che dalle pendici è scesa salutiamo proprio tutti anche il quartiere di Rebbio all'epoca a Lebbio ed eccole poi le squadre che sfilano con i colori rosso-verdi di Camerlata che dalle pendici del Baradello si sono recati nella nostra città e portano i frutti del loro quartiere nella nostra zona a seguire con i colori della Cortesella come potete vedere la bandiera bianconera la contrada cittadina per eccellenza piazza Peretta via Vitani via Muralto tutta questa zona centrale che raccoglie proprio il nucleo storico della città di Como salutiamo i signori della Cortesella che accompagnati dalle varie i popolani e anche perché no dalle famiglie nobili stanno congiungendosi al resto del gruppo arriva anche il gruppo di Tavernola tra poco guardate questo carretto trainato con cosa c'è un tesoro lì c'è un tesoro ci fanno si si ci sono i tesori e poi ci sono le reliquie non oso dire cosa c'è scritto sulle reliquie Tavernola salutiamo Tavernola bianco rosso sono scesi dal dal lago loro hanno preso la via lacustre per raggiungere la città e sono arrivati con i loro comandanti con i loro capitani proprio qui nella città e portano anche loro i frutti della terra e soprattutto i frutti del sudore del quartiere di Tavernola che ricordiamo essendo affacciato sul lago godeva anche all'epoca della possibilità della pesca le ocche non possono mancare come sempre e sono sempre perfette nella sfilata anche questi costumi che li salutiamo li salutiamo tutti direi un applauso anche ai componenti di Tavernola mentre ci avviciniamo al gruppo degli sbandieratori e musici di Tavernola che tra poco dopo l'esibizione che stanno tenendo in questi minuti verso Piazza Duomo raggiungeranno Piazza Cavour anche loro svolgono la loro attività in funzione del Palio del Baradello si esercitano pensate tutte le settimane più volte anche la settimana per raggiungere la perfezione nei loro esercizi e soprattutto l'omogeneità nel lanciare queste bandiere in alto e recuperarle tutti contemporaneamente lo potete vedere là in fondo è bellissimo e anche molto coreografico lo spettacolo lo spettacolo che offrono i musici e gli sbandieratori di Tavernola che ci stanno per raggiungere fanno parte del quartiere che è appena passato sotto la nostra postazione vi ricordo anche per l'ennesima volta di seguire il Palio e di recarvi nella zona dei Giardini a Lago per assistere alla parte finale della sfilata del corteo e alla premiazione assegnazione del Palio del Baradello quest'anno si è trattato di una sola gara la Cariolana sabato scorso e bisognerà vedere l'esito il primo sbandieratore che potete vedere è anche il presidente dell'associazione del Palio direi di fare un applauso a tutto il Palio se non meritano veramente l'organizzazione e l'associazione del Palio c'è molto tantissimo lavoro alle spalle e vi ricordo anche i vari appuntamenti che ci sono stati nel corso della settimana e anche delle settimane passate con i vari tornei e soprattutto con la cerimonia c'è stata domenica 28 della saluto e visita la sentinella di Pietra al Baradello da parte dell'imperatore Barbarossa poi alla Basilica di Sant'Ambondio in Piazza Verdi c'è stata l'entrata in como dell'imperatore Federico il Barbarossa e la cena medievale vi lascio in compagnia della musica in questo momento degli musici espanderatori di Tavernola un applauso a queste persone che si dedicano veramente tantissimo a rendere perfetto questo momento importante ora sempre dalla zona nord della città di Como arriva il borgo di Quaccino il borgo che fa parte del quartiere di San Nino con i colori rosso-blu hanno vinto il palio nel 2016 dal 2013 partecipano ci inchiniamo di fronte ai capitani alle signorie il capitano ci raggiungerà dopo come potete vedere rosso e blu il loro colore e le varie madamigelle portano i frutti della terra il frumento i fiori tutto quello che serve per poter far vivere Quaccino a nord della città nel quartiere stesso di San Nino con una chiesa romanica bellissima da visitare invitiamo quindi a visitarla è un appuntamento importante i frutti della terra dicevamo prima e allora mostriamoli questi frutti con quello che si viene coltivato con il sudore della fronte si impiegava all'epoca stagioni intere per arrivare al raccolto e poi finalmente si giungeva soprattutto nel periodo di fine agosto inizio settembre anche ai grappoli di uva ne stanno già mangiando ottimo vediamo cosa succede perfetto si prosegue ora è un momento importante perché tra qualche istante dopo la sfilata di tutte le formazioni del palio avremo l'arrivo di Federico Barbarossa accompagnato naturalmente l'imperatore dalla sua inseparabile imperatrice guardate la perfezione anche in questo caso la perfezione dei costumi e soprattutto in quelle ampolle siamo curiosi di sapere che cosa c'è ci sarà uva no non c'è uva lo scopriremo dopo passiamo con i colori marrone e giallo al quartiere di Sant'Agostino alla Coloniala un quartiere storico dopo il quartiere della Cortesella un quartiere cittadino importante la loro funzione per tutta la città soprattutto nella zona a est verso il molo di Sant'Agostino che tutti ormai conosciamo benissimo è un quartiere fatto di tante viuzze e popolato da tante attività artigianali immaginatevi proprio all'epoca della Barbarossa quante cose sono successe in quel momento il quartiere di Sant'Agostino colore giallo e marrone si può proseguire con la sfilata bellissimo anche gli arabeschi su questi costumi ve li facciamo notare su un damascato blu su fondo blu color oro anche qui le rose le rose a segno delle coltivazioni del lago arriva Alebium Alebium è un quartiere che oggi si chiama Rebio in prossimità del Baradello ha origini lontane origini storiche anch'esso i colori come potete ben vedere sono l'azzurro e il bianco azzurro e bianco a significare i colori della solarità i colori della giovialità Alebio era un quartiere piuttosto pianeggiante anche se su un'altura erano le prime alture Barbarossa aveva fatto del Baradello la propria torre per visionare soprattutto eventuali attacchi e il quartiere di Rebio era posizionato proprio al di sotto arriva anche il quartiere il borgo di Cannago Volta che questa volta ci porta dall'altra parte del territorio cittadino se prima stavamo sotto il Baradello adesso invece andiamo sotto le pendici dalla parte di Brunate e allora un inchino direi di fare anche un applauso agli amici del borgo di Cannago Volta l'importante borgo Volta immaginate Alessandro Volta cosa sta a significare questo scienziato illustre che dà proprio il nome a Cannago Costumi ancora per la delegazione di Canturrio che arriva a far la presenza qui importante la cittadina di Cantù è fuori dalla diocesi di Como e allora ecco anche la rappresentanza dal punto di vista religioso e delle signorie che hanno voluto rendere omaggio alla città di Como tra poco anche la città di Lugano arriverà a rendere omaggio a Federico Barbarossa perché all'epoca i confini non erano quelli attuali lo ricordiamo ancora una volta la diatriba la guerra che era stata scatenata tra le città di Como e di Milano ha visto coinvolte tantissime entità storiche tra le quali anche la città di Lugano oggi presente qui li ringraziamo sempre come potete vedere ad aprire un'autorità religiosa e la dama con questo bellissimo abito costume verde bellissimo anche il signore di Lugano li salutiamo ci vuole un applauso anche per loro li ringraziamo per essere stati con noi che non mancano mai non mancano mai di essere presenti prosegue la sfilata bellissima anche la dammicella che ha a cavallo con un cavallo prisone fantastico e qui attenzione perché ci troviamo con i confalonieri imperiali bianco nero l'aquila imperiale e vuol dire questo che si sta per avvicinare il momento importante dell'arrivo dell'imperatore che lo vedete a cavallo scortato appunto dalla dalla sua guardia imperiale ed eccolo arrivare Federico Barbarossa a liberare la città di Como un applauso a Barbarossa bellissimo anche lui con la corona e direi che alla suo seguito dopo Federico arriva la cavalleria imperiale non abbandonano per un istante il proprio imperatore la cavalleria a protezione con il comandante vero il comandante vero della cavalleria che difende l'imperatore Enrico il leone guardate lo stemma imperiale sul suo mantello e anche lui viene scortato dalle sue guardie e dalle sue madamigelle l'insegna l'onore del palio le ancelle dell'editto che annunciano l'arrivo dell'imperatrice beatrice a cavallo nella sua bellezza alla prima presenza oggi alla palio il baradello l'imperatrice applaudiamola a lungo perché è lei che ha in mano le sorti assieme all'imperatore Federico Barbarossa l'imperatrice beatrice bellissima seguita dalla duchessa di Zaringen a cavallo anche lei l'imperatrice nei colori rosso mentre la duchessa nel colore bianco e verde non possono mancare poi le sale d'arme stella splendis e notate le coppie a due a due delle varie dame della corte imperiale seguono la coppia imperiale Federico Barbarossa e Beatrice градulli per la corte sullenare a luce lungo luce